salve un bel ritrovati a tutti quanti siamo nuovamente qui con la seconda parte chi ha perso la prima non si preoccupi la può vedere sul mio canale youtube registrata e siamo in diretta sia su youtube quando guardo qui sto guardando youtube sia quando guardo un po più in basso sto guardando in diretta su instagram in cui diciamo canale su cui molti seguono questi interventi e per i quiz lo dico a chi si trova su youtube è utile ogni tanto provare a seguirmi anche sugli altri canali social in pagare in particolare instagram perché non vedendo i quiz a video come vedete invece su youtube attraverso la condivisione può essere utile perché aiuta aiuta moltissimo a concentrarsi su ciò che si dice più che su ciò che si vede questo è un buon metodo di preparazione infatti ringrazio tutti quelli che sono sul canale allora noi abbiamo fatto i primi 15 quiz di questa batteria medio difficile perché perché ha delle domande abbastanza semplici sono quelle in cui risponde bene più dell'ottanta per cento dei partecipanti poi ogni tanto arriva la domanda che fa la differenza nella prima batteria di 15 quiz ce ne sono state tre in cui hanno risposto male più del 60 per cento circa il 60 per cento di voi quindi vuol dire che su quelle si vince o si perde il concorso vediamo nelle prossime come va io vi preparo il quiz ricordo su instagram scrivete nei commenti abc non ricordo se erano tre o quattro opzioni ora la vediamo mentre su youtube cliccate sul sondaggio perché mi serve per capire le statistiche ripeto nei concorsi pubblici non conta dire ho preso 27 su 30 quello è l'esame universitario 27 su 30 è un buon voto per chi è pignolo ci si può migliorare per chi ha una media più bassa è un ottimo voto ma nei concorsi non vuol dire niente 27 è un ottimo voto se la maggior parte ha preso 26 è un pessimo voto se la maggior parte ha preso 28 quindi non posso sapere se è un buon voto tranne 30 se non conosco i risultati degli altri ecco perché facciamo i sondaggi le statistiche e capiamo se siamo sopra o sotto un certo percentile sopra o sotto una certa soglia ricordo chi di voi mi segue lo sa che l'andamento delle prove concorsuali è a dorso d'asino cioè io ho molte persone poche persone che rispondono a pochissime domande tipo 10 su 30 poi ne ho un po di più 12 su 30 15 su 30 poi ho il punto apicale il massimo del statistico che è dato intorno dai 20 ai 22 23 ok chi è lì è nel gruppone cosa significa nel gruppone che probabilmente non si passa però mi mancano poche domande per passare ovviamente me ne basta sbagliare due per finire fra i peggiori quindi se è in quella fase in cui ci si può fare ma manca ancora poi dopo si scende e si arriva a pochissimi che le indovinano quasi tutte intanto Eleonora mi dice sono arrivata seconda grazie ai suoi consigli grande 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 il primo marzo ho fatto il mio primo concorso prova scritta 10 domande aperte ho risposto a tutte le domande solo grazie a lei ma consapevole di aver studiato solo due mesi l'importante è provare e aver la consapevolezza di aver reso al meglio poi il voto non dipende da voi e quindi non conta un atto invalido può essere convalidato ora non mi fate voi le domande sono io che devo fare le domande usate la community per i quesiti nella community.omniavis.it trovate gratuitamente una sezione collegata a chat gpt cosa significa che voi fate i quesiti e l'intelligenza artificiale vi risponde intelligenza programmata per rispondere sulle materie giuridiche quindi abbastanza performante ovviamente non è l'equivalente di un autore umano ma molto molto performante allora intanto Irene dice volevo salutarla prima di ritornare alla mia preparazione per l'orale in questa giornata grigia fiorentina vai Irene grazie torna pure all'orale ho sostenuto prova scritta tre domande risposta aperta più atto ho sfruttato i jolly del book 5 ma l'atto è uscita la nomina di una commissione di concorso mi ha spiazzato beh la nomina di una commissione di concorso ora non è così complicata diciamo è un atto dirigenziale che può assumere o meno la forma della determina questo dipende dalle prassi ma comunque è un atto con il quale vista il bando di concorso dato atto della necessità di nominare una commissione di esperti vista l'individuazione di Mario, Luigi, Carlo acquisiti curricula e verificata l'esperienza complessiva della commissione eccetera eccetera nomina e poi dispone il trattamento economico il gettone di presenza insomma tutto quello che deve essere non è complicata non è complicata anche se non l'aveva vista prima ci si può tranquillamente inventare può aiutarci a capire come cosa studiare per il concorso unical visto che ci sono tre materie un po strane scrivete a formazione chiocelomiavis.com qualunque cosa abbiate bisogno di suggerimenti poi mi chiedono a me io gli do le indicazioni da dare ma almeno avete una risposta dettagliata si guarda al bando si approfondisce ma generalmente omnia mi sembra 0405 è il pacchetto per la preparazione del concorso all'università l'iscrizione alla community è gratuita assolutamente assolutamente tutto ciò che vi racconto se non l'ho preciso sono tutto materiale gratuito dal mio canale youtube a instagram alla community insomma tutte le indicazioni che vi do altrimenti vi dico ci sono i corsi per e poi uno valuta assolutamente non esiste cosa che vi indico che poi vi chieda qualcosa in pagamento allora benissimo vedo che sono molto caldi e numerosi da tutte e due reparti siamo pronti prof ma il concorso in regione abruzzo farà qualche lezione allora ricordatevi la preparazione tematica specifica è la minore cioè esiste omnia 0 3 che il pacchetto per la preparazione concorsi in regione che copre il 95 per cento della formazione quando uno è arrivato a fare bene quello si prende lo statuto della regione abruzzo e le disposizioni organizzative alcune leggi regionali ed ha completato e lo può fare da solo non ha bisogno di un docente che gli spieghi lo statuto della regione abruzzo dopo che ha fatto tutto quel percorso ma la stessa cosa vale per i tecnici vale per la sanità quindi una volta che uno ha le basi solide fa tutto da solo l'obiettivo della performazione è rendervi autonomi anche dal sottoscritto il 27 prova scritta ho acquistato il book 05 grande carmelo poi mi farei sapere se ti è stato utile l'intelligenza artificiale non è mai performante con i prof chiarelli ci mancherebbe altro altrimenti la distruggiamo allora bene ci siamo partiamo con il quesito numero 16 instagram nei commenti youtube nel striscia blu del voto tra i modi di acquisto della proprietà a titolo derivato rientra a la specificazione b la successione ereditaria c l'usucapione vediamo un po come rispondete a b o c tra i modi di acquisto della proprietà a titolo derivato ovviamente qual è il consiglio se la materia non la conoscete bene andate a intuito e provate a rispondere dopodiché finita la diretta andrete sulla community punto o mi vis punto it nella sezione l'esperto risponde e scrivete quali sono i modi di acquisto a titolo derivato e vi dirà quelli a titolo derivato quelli a titolo originario ecco qua stanno arrivando le risposte questa è abbastanza selettiva penso metà di voi indovina metà sbaglia vi do qualche secondo in più alla prima per consentire a tutti quanti anche di svegliarsi sveglia sveglia il weekend bisogna svegliarsi molto presto allora vedo che secondo me eredità perché derivato appunto da un modo ereditario può essere un ragionamento ottimo anche provare a commentare è benissimo in chat il perché avete dato una certa risposta quando ci si arriva per intuito più perché perché per conoscenza è un ottimo modo simone complimenti allora stiamo arrivando quasi a 100 voti che è il nostro punto di riferimento perché questa voce dell'oltretomba non lo so anzi penso che derivi non lo so non lo so forse qui fa un po di eco in in questa stanza ormai mi vengono i sensi di colpa se non mi sveglio presto giusto uno deve deve essere consapevole a chi mi dice ma io non ce la fa svegliarmi alle 4 ora a volte lo dico anche con delle parole volgari che non uso spesso situa ok è un problema non è la soluzione io dico sempre chiunque mi dice io non riesco ma io figli ma io la mattina mi piace fare altre cose questo è un problema non è la soluzione e quindi non posso aiutarti io posso aiutarti con le soluzioni non con i problemi sì sì su youtube sentite bene è dal microfono la webcam è instagram che ha il microfono ovviamente all'interno del dello smartphone che probabilmente da un po di eco però si sente comunque si sente allora ecco a voi il primo quiz che fa la differenza perché il 58 per cento di voi ha risposto correttamente b la successione ereditaria ovviamente a titolo derivato i miei beni derivano da qualcun altro mentre nell'usucapione mi arrivano ex novo e così nella specificazione ma la differenza fra omni e il corso con fadda e lei per segretario comunale non c'è la differenza sono complementari io l'ho detto vale vale che omnia 07 prima e coa 2024 dopo è l'ideale per la preparazione poi certo uno dice ma io tutte e due non ce la fo anche in termini economici uno valuta coa 2024 con fadda è fantastico quindi se già avete dei percorsi con me fate quello con lui perché sarà un percorso veramente fantastico luigi chi lo conosce abbiamo fatto delle dirette insieme è veramente un professionista formidabile questa domanda quale branca del diritto si riferisce diciamo diritto civile ok questo è diritto civile non sempre si trova nei concorsi ma in questo si trova e questo concorso per profilo amministrativo dove ogni tanto c'è no non è diciamo che è difficile non esiste un confine netto fra diritto amministrativo e diritto civile perché ovviamente se parlo dell'usucapione vale anche per gli enti pubblici ma applicando il diritto civile o diritto privato è sono due concetti che usiamo come sinonimi anche se in realtà non lo sarebbe allora domanda numero 17 vediamo se si va a migliorare o peggiorare domanda numero 17 che mi dice ai sensi dell'articolo 142 del testo unico degli enti locali il sindaco allora intanto no c'è un commento qui se mi permette le do del tu certo hai fatto amare enti locali a un laureato in infermieristica ovvero a me a tal punto di vincere un concorso per un posto istruttore amministrativo è un mago grande simone grande simone un infermiere a fare l'amministrativo benissimo per cui qualunque cosa succeda ti metteranno sicuramente come referente per la sicurezza sui luoghi di lavoro ovviamente dico a tutti quelli che volessero e passano da firenze di chiamarmi oggi ho una cortese visita di un studente che ha vinto il concorso in università ne ha chiamato ieri e ha detto vieni e stamani verrà qui a trovarmi quindi se volete nessun problema se si trova il tempo possiamo organizzarci venendo a noi abbiamo detto ai sensi dell'articolo 142 del tuere il sindaco allora sussistendo nei motivi di grave urgente necessità può essere sospeso dal prefetto ok il sindaco può essere sospeso dal presidente della repubblica o dal ministro dell'interno chi è che grave urgente necessità impazzisce inizia a fa ordinanze da tutte le parti può essere sospeso dalla carica di sindaco intanto rispondo alle domande che mi arrivano quando parte il corso con fada allora il corso è già disponibile e fada inizia a registrare in questi giorni e la prima lezione sarà disponibile a metà marzo quindi settimana prossima settimana fra pochi giorni pubblichiamo le prime lezioni circa due alla settimana quindi chi ha già acquistato troverà l'avviso attenzione c'è già caricata la lezione ma soprattutto è già attivo il gruppo telegram quindi non dico più importante del corso ma è altrettanto importante quanto il corso dove io e luigi diamo supporto a chi si sta preparando con consigli con risposte a quesiti con indicazioni quindi chi già si iscrive ha già il gruppo telegram poi via via verranno annunciate le lezioni benissimo ottimo anche vania che va alla formula inversa dice b e c da scartare attendiamo il suo libro cartaceo siamo in dirittura d'arrivo è ho finito di scriverlo sto facendo le ultime correzioni e poi vi farò sapere i tempi della stampa probabilmente andremo su amazon e quindi della possibilità di acquistare su amazon e farvelo arrivare cartaceo benissimo cardinisi simo diciamo la simo che mi dice il prefetto specchietto su questo ma la domanda è sospeso ottimo max che sottolinea il trabocchetto che c'è chi di voi ha seguito le lezioni del code 002 del corso antilocali sa che la differenza fra la sospensione che è il blocco temporaneo della funzione e invece la rimozione definitiva il blocco temporaneo normalmente è a cura del prefetto la risposta giusta è la prefetto mentre la rimozione è del ministro dell'interno sono organo monocratico del presidente della repubblica se organo collegiale cosa è stato detto prima sulla sicurezza sul lavoro no 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 dicevo era una battuta sul l'amico che ha vinto il concorso e faceva l'infermiere e che è diventato un amministrativo il corso omnia 1 è abbastanza per iniziare manuela non è il mio modo di ragionare non si inizia si finisce se uno deve studiare per iniziare non lo faccia ok si goda la domenica va a fare sci d'acqua perché oggi viove ma si va per finire per vincere e quindi non fate acquisti investimenti per intanto inizio posto a vedere non serve a nulla ok è inutile arrivare 5 centesimi su 10 posti per dire ma intanto iniziato no si va per arrivare tra i primi 10 punto e basta con tanto sacrificio quindi fate acquisti definitivi non temporali sa per caso se uscirà inps amministrativo entro luglio ma che magari sono leggende metropolitane quando inps vuole uscire esce non lo viene certamente a dire a me ecco non è che so cose più di voi sono tutte chiacchiere di corridoio iniziate a studiare iscrivetevi a tutti i concorsi possibili e andate a vincere quando esce esce non dipende da voi se svolto il concorso simulato no lo farò a breve il concorso l'orale concorso simulato aspetto un attimo perché ho una serie di impegni fra cui fissare ricordatevi il chiarelli in tour ve lo anticipo ve l'anticipo mese prossimo fra un mesetto sarò al nord ok per un convegno gratuito in un teatro nell'interland di milano quindi chi è in zona può tenersi libero il 17 aprile non vi dico altro diciamo poi lo ufficializzeremo con il comune che ha organizzato insieme a me l'evento molto interessante soprattutto gratuito qui tutto ciò che è gratuito e comunque molto interessante e vi invito a segnarvi sull'agenda 17 di aprile poi vi racconto comunque nella zona a nord di milano nella zona grande puma o puma che mi dice a milano ci sarò fatti vedere eh ti voglio vedere in faccia e voglio un selfie con te da mettere in home page allora sondaggio 18 l'acronimo cad cosa indica codice dell'amministrazione digitale codice dell'attività digitale codice dell'assicurazione digitale cosa indica l'acronimo cad nel diritto amministrativo perché sapete gli acronimi ormai si usano dappertutto io poi ve lo farò sapere presto del del tour esep as soon as possible ormai si usano anche acronimi inglesi nel corrente linguaggio italiano io tendo a non usarli però diciamo che ormai sta diventando sempre più frequente quindi il cad né diritto amministrativo che cosa è infatti elisabetta dice anche noi vogliamo vedere puma secondo me verranno al tour soprattutto girato il puma fan club ok allora diciamo che come dice bagna la 18 si può sentire codice dell'assicurazione digitale ora sembra la pubblicità del cane che abbaia e della della no non ricordo se era un'assicurazione o un altro un altro strumento ovviamente fra la e la b però questa ecco insomma questa è difficile sbagliarla è vedo che finalmente il 98 per cento l'ha indovinata non vi montate la testa quando il 98 per cento l'ha indovinata vuol dire che non conta non conta per il concorso quindi il fatto che l'abbiate indovinata insieme agli altri il principio che siamo in una competizione rende la domanda superflua molto spesso a queste domande semplici poi seguono domande più complicate e uno gli crolla il morale l'organo dell'ente pubblico è la persona fisica titolare di una certa funzione o carica all'interno dell'ente e destinata a esercitarla agendo dall'esterno per l'ente ed impegnando validamente nei confronti dei terzi definizione lunga b soltanto la persona giuridica titolare di una certa funzione o carica all'interno dell'ente destinata a esercitarla agendo all'esterno per l'ente impegnandola validamente nei confronti dei terzi c il complesso degli individui e dei mezzi e beni materiali destinato a solvere compiti ausiliari e strumenti strumentali rispetto alle funzioni degli uffici qual è la definizione giuridica di organo di un ente pubblico grande rita che mi dice che verrà da torino mi sembra a torino questo luogo sia abbastanza semplice ma comunque settimana prossima massimo fra dieci giorni inizieranno le iscrizioni online ecco vi ricordo voi che siete in diretta siete insomma ve lo anticipo appena escono iscrizioni online iscrivetevi prima possibile perché i posti sono limitati mi sembra ci siano 300 posti disponibili perché per questione di sicurezza e quindi oltre il limite non si può è gratuito ma non si può accogliere altre persone allora l'organo di un ente pubblico vediamo chi di voi è stato tratto in inganno c'è un piccolo trabocchetto in una di queste domande ok vedo che su instagram un po sulla c un po sulla su youtube un po sulla c un po sulla sono le due più gettonate la b probabilmente per quella parola soltanto sapete che appena si vede solo soltanto esclusivamente si scarta e quindi si va sulle altre ottima ottima strategia questo è il tecnicale applicato allora vediamo vediamo un po vediamo un po siamo arrivati a oltre 100 vi confermo una cosa ecco spesso uso queste dirette anche per dare consigli ho sbagliato per questo soltanto dice alice organo lo collego sempre alla mano del corpo umano giusto ilaria allora vi dico cosa accade io che monitoro il sondaggio mentre voi rispondete si inizia con quelli che rispondono di getto normalmente chi risponde di getto lo fa per una questione psicologica cioè ok dai tanto non mi interessa tanto non sono interessato così anche se sbaglio cioè un modo per giustificare a se stessi l'errore ed è sbagliatissimo poi andate ai concorsi la fate veloce ma tanto a me il posto non interessava invece era l'obiettivo della vostra vita non mentite a voi stessi non fate questo errore psicologico drammatico affrontate seriamente sapendo che avete questi limiti e che nessuno vi guarda nessuno vi giudica andate lì per cercare un posto quindi ragionate chi risponde nei primi cinque secondi spesso lo fa così tanto sono qui a sto facendo altro non mi interessa non così non vi serve a niente e infatti si arriva con un forte livello di errore quelli che impiegano dai 10 ai 30 secondi per rispondere rispondono quasi una percentuale altissima correttamente hanno riflettuto hanno ragionato hanno tolto le risposte sbagliate chi aspetta più di 30 secondi invece spesso sbaglia e a volte sono quelli più bravi che ragionano troppo iniziano a pensare a conseguenze ma guarda quella norma allude i quiz sono molto più banali e infatti poi cala la percentuale di risposte esatte questo ve lo dico perché è frequentissimo porca paletta sarò lisbona fino al 18 eleonora va bene o assolutamente ti perdono da lisbona allora risposta esatta la l'organo dell'ente pubblico alla b la scartiamo per quel soltanto la persona giuridica la persona giuridica lente non è l'organo il complesso degli individui dei mezzi e dei beni materiali lì l'errore non sta in quel complesso degli individui perché perché un organo può essere anche un organo collegiale il consiglio comunale è organo del comune e non è una persona fisica ok quindi la c ci poteva stare il complesso degli individui ma non dei mezzi non è che le poltrone del consiglio comunale sono organo del comune ok quindi quel dei mezzi e dei beni materiali rendono la risposta sbagliata ecco perché la c è sbagliata ma ci aveva lo specchietto per all'odole dell'inizio prof un colloquio di lavoro per me importante consigli consiglio è skills tecniche di soft skills full 95 è un corso se volete il corso altrimenti manuali altrimenti online però le soft skills nei colloqui conta soprattutto questo aspetto di approccio ve lo consiglio risposta esatta quindi la la persona fisica titolare di certa funzione o carica all'interno dell'ente destinata esercitando agendo all'esterno per l'ente impegnandolo validamente nei confronti dei terzi ovviamente non è soltanto la persona fisica ma la è corretta quindi non è consigliabile vedere più volte le domande come faccio io rivedere più volte le domande come faccio io tendenzialmente no rossella io suggerisco si legge la domanda si cerca la più sbagliata si rimane fra due opzioni si rilegge la domanda più la domanda che non le opzioni nella domanda c'è una parola che mi collega alla risposta dopodiché si va a scartare l'ultima e si procede continuare a ragionare troppo a leggere troppo spesso mette in confusione e magari si dava dare risposta esatta e poi si va a cambiare all'ultimo momento prof ho una prova con tre quesiti aperti consigli book 05 e book 07 i libri per la preparazione alle domande risposta aperta numero 20 buongiorno a tutti ciao jurgens ben rivisto anche stamani ormai jurgens si percepisce che è diventato posto fisso perché si sveglia un pochino più tardi dopo aver passato mesi a svegliarsi alle 5 allora pronti attenti via domanda numero 20 secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della 241 per quali provvedimenti amministrativi non è richiesta la motivazione a per gli atti normativi ma non per quelli a contenuto generale b per gli atti normativi e quelli a contenuto generale c esclusivamente per quelli a contenuto normativo per quali provvedimenti non è richiesta la motivazione può spiegare soft skills pina no non certo qui ci vuole un corso completo quindi consiglio è full 95 ci sono tutte le lezioni sulle soft skills eccolo qua allora prof il corso omnia 09 comprende slide videocorsi e quiz certo certo tutti i pacchetti omnia comprendono ok quindi videocorso ovviamente le slide di ogni lezione più quiz domanda risposta aperta insomma tutto quello che serve allora ovviamente in questa si scarta la c esclusivamente per quelli a contenuto generale dopodiché insomma questa è proprio la bc della 241 infatti vedo 95 per cento di voi risposto correttamente sia per gli atti normativi che per quelli a contenuto generale ecco sono arrivate un po di domande semplici adesso vediamo se questa è più difficile la 21 preparatevi alla 21 21 la 21 dice ai sensi dell'articolo 1 comma 10 della legge 190 2012 chi provvede alla verifica dell'efficacia attuazione del piano e della sua idoneità stiamo parlando del piano anticorruzione nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione insomma chi è questa persona questo soggetto quest'organo a l'organismo indipendente di valutazione b il responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza c l'autorità nazionale anticorruzione domanda difficile per chi non ha studiato la materia perché ci sono specchietti per le allotole fattibile dove ci si iscrive per il 17 la seguo da poco sui miei canali social facebook youtube annuncerò il link a brevissima appena sarà disponibile e quindi insomma lo vedrete poi farò anche una video presentazione quindi seguite le mie dirette su youtube instagram e comunque tutti i post che faccio ci saranno indicazioni vi consiglio entro la prima settimana per essere sicuri di essere fra nel gruppo degli iscritti che poi hanno il posto assicurato venga dalle zone di pesaro sicuramente ora ripartito il tour sto organizzando c'è il sondaggio della 21 saltata la 20 no la 20 l'abbiamo fatta la 20 l'abbiamo fatta era quella per gli atti normativi probabilmente chi è in zone diciamo con la connessione lenta arriva un po in ritardo quindi vedete il sondaggio che arriva esce rapidamente non importa e non serve che rispondiate tutti al sondaggio se uno non ce la fa si prende un appunto soprattutto si segni se l'ha risposto bene o o male sarò in altre zone del nord sapete che l'anno scorso ho privilegiato il centro sud e le isole e l'isola la sardegna soprattutto quest'anno sto organizzando sia per il sud perché col cavolo maggio giugno vengo al nord vado anche al sud ma anche un po al nord non vedo il sondaggio dell'articolo 22 perché non c'è c'è il sondaggio dell'articolo 21 c'è il sondaggio della domanda 21 allora benissimo vedo che su instagram stanno rispondendo mi sembra che ci sia ci siamo si può scorrere un po più in basso così si legge bene la domanda no io ce l'ho centrata quindi non dovrebbe esserci problemi bravissimo max bravissimo max che ha capito grande foto elisa che mi dice saluti dalla sardegna verrà pompei se non è pompei è in zona in campania di sicuro ok campania anche solo a trovare i parenti e organizzare qualcosa sto facendolo ok allora bene terminiamo il sondaggio vedo che una buona fetta di voi ha risposto correttamente 70 per cento ma attenzione 30 per cento che non è poco un terzo ha sbagliato tratto in inganno dall'oiv l'oiv non c'entra niente con l'anticorruzione o meglio c'entra pochissimo con l'anticorruzione ha una minima competenza l'oiv è sulla performance ricordatevi oiv performance performance se pensate ov 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 o vs ok potete pensare all ov s collegata alla performance l'oiv se non sbaglio è facoltativo quindi potrebbe non esserci no in realtà l'oiv c'è può essere nucleo di valutazione ma alle stesse funzioni dell'oiv ma è legato alla valutazione della performance non all'anticorruzione ovviamente la c anac non va bene perché se pensate che anac debba controllare 15.000 enti pubblici perché stiamo parlando di questo stiamo parlando della verifica dell'attuazione del piano anticorruzione che adottano tutte le pubbliche amministrazioni quindi 15.000 enti l'anac come dice max nei commenti dovrebbe avere 3.000 dipendenti una cosa impensabile andrea mi dice soft skills competenze trasversali quale empatia e cose inerenti al carattere sì non troppo inerenti al carattere non è legato all'aspetto umorale ma sono diciamo abilità trasversali non tematiche per la materia anticorruzione c'è materiale specifico sì c'è una lezione specifica che ho fatto sull'anticorruzione e trasparenza ma il difensore civico non è stato abrogato sì ma non c'entra niente il difensore civico con questa domanda perché non è indicato in questa domanda allora pronti attenti via con il sondaggio numero 22 la domanda 22 mi dice l'articolo 5 comma 2 del 165 sancisce che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro in particolare la direzione delle organizzazioni del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte a in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e poteri del privato datore di lavoro fatte salve la sola informazione sindacati o le ulteriori forme di partecipazione b in via esclusiva dal dirigente generale di prima fascia o in mancanza dal dirigente preposto all'ufficio con la capacità e poteri del privato datore di lavoro fatte salve la sola informazione sindacati o le ulteriori forme di partecipazione ci in via residuale dagli organi preposto alla gestione con i soli poteri del privato datore di lavoro quali sono qual è la risposta esatta qui se volete il tecnicale avete il 50 per cento l'onora ci sottolinea come l'oiv compila il certificato sull'annac per attestazione trasparenza si l'oiv attesta che il sistema di anticorruzione e di trasparenza sia coerente con il sistema della performance questa è la funzione fondamentale dell'oiv in materia di anticorruzione allora intanto un grazie a tutti quelli che vedo che sono presenti in diretta e sono abbonati al canale ne vedo tantissimi anche non abbonati ma diciamo un grazie speciale a chi fa anche questo sforzo e questa diciamo ulteriore ricerca di materiali moltissimi di questi sono a livello professionale che è il livello ottimale per la preparazione vania si è pentita ha dato una risposta ma poi ha scoperto che era sbagliata e vediamo se questa è la domanda delle domande cioè quella che in questa seconda e quindici domande farà la differenza fra vincere o perdere e guardate molto spesso sono le materie trasversali io lo ripeto se andate a un concorso per funzionario tecnico dirigente tecnico urbanistica patrimonio non vi servono a niente o meglio sono essenziali ma si dà per scontato che risponderete tutti bene a quelle è una domanda di questo genere che vi fa vincere o perdere quel concorso perché molti tecnici studiano le materie tecniche tecniche chi fa i concorsi in polizia locale studia il codice della strada e poi si trova questa domanda che sottovaluta ma tanto la materia secondaria e lì vince su questa su 165 le linee guidana con 1234 da sapere per forza sono abrogate diciamo uno valuti sono jolly se si conoscono non fanno male perché il contenuto comunque ancora applicabile il contenuto anche se formalmente non sono più applicabili quindi da tenere conto di questo aspetto allora benissimo 125 intanto ringrazio per i like numerosi ma non abbiamo ancora raggiunto i 100 like quindi chi non l'avesse dato sia su instagram che si chiamano cuoricini sia su youtube che si chiamano like mi fa molto piacere allora attenzione alla risposta esatta la risposta esatta è la a di ancona il 27 per cento di voi ha risposto correttamente vediamo dove potrebbe essere stato l'errore che vi ha tratto in inganno quindi risposta corretta la a 73 per cento ha sbagliato tre quarti ha sbagliato perché intanto era la b perché sono identiche tranne una cosa nella b vedete si indica in via esclusiva dal dirigente generale di prima fascia o in mancanza dal dirigente preposto all'ufficio che è una possibilità attenzione non è sbagliata la b ma intanto riguarda soltanto lo stato perché perché negli altri enti non esistono le due fasce di dirigenza e quindi non può essere la risposta generale al 165 mentre la a è più completa perché in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione che sono i dirigenti di qualunque fascia se esistono le fasce o senza fascia se non esistono le fasce poi la dizione con la capacità e poteri del privato della torre di lavoro fatte salve alla sola informazione era comune a tutte e due le risposte quindi la b traeva in inganno perché alludeva ad un concetto che avrete letto nel 165 le due fasce di dirigenza che riguardano gli aspetti economici e non gli aspetti organizzativi che in questo caso non c'entrava niente intanto max dice accidenti quando ho visto i risultati del sondaggio pensavo di averla cannata e invece l'ho beccata non sempre ok la maggioranza vince questa era proprio una domanda selettivissima selettivissima ovviamente la c si scartava in via residuale dagli organi preposti ma in via principale dagli organi preposti alla gestione vi ricordo già che ci sono perché questa è utilissima a voglia a studiare qua dice enrico che probabilmente l'ha sbagliata vania mi sottolinea il tecnicale vi ripeto se una risposta non la sapete cercate prima il tecnicale quale vi dice poi ragionate se veramente è il tecnicale che vi può aiutare spiego come si ragionava col tecnicale si sceglieva l'a o la b perché hanno la stessa formulazione vedete iniziano lo stesso modo in via esclusiva in via esclusiva la c è in via residuale la scarto la c ma non la scarto definitivamente la metto da parte perché fra la a e la b ok qual è delle due che richiama le stesse parole di quella che ho scartato vedete che la c ha scritto dagli organi preposti alla gestione dagli organi preposti alla gestione è nella a allora il tecnicale mi dice che nel 95 per cento dei casi due risposte simili e una diversa la risposta giusta è una di quelle due simili ed è quella che ha le stesse parole della prima che ho scartato guardate non è che ci sono elaborazioni particolari dietro il ragionamento che c'è alla base è e vi invito a provare a fare dei quiz a scriverli se voi fate le quiz e cosa fate scrivete la risposta giusta ok la bene dopo di che per renderla sbagliata cosa fate cambiate questo pezzo di frase vedete in via esclusiva e ci sostituite una parte sbagliata e create la b dopo che cosa fate riprendete quella giusta e ci togliete un pezzo di frase quindi a contrario ecco il tecnicale questa è la genialità di mio figlio alessandro che ricostruendo a contrario il modo con cui vengono elaborate le domande ha trovato queste sette regole che non mi valgono sempre ma che mi aiutano a indirizzarmi laddove io non lo sappia ok bene allora andiamo a fare intanto benvenuto fra fra gli abbonati al canale grande fra fammi sapere poi se la scelta è stata giusta emanuela ci dice su instagram ho avuto la conferma col tecnicale quindi ero già indirizzata a il tecnicale mi ha dato conferma ottimo poi l'altra cosa che dovete imparare a fare e ci vuole esercitazione è fare velocemente queste cose perché ad un concorso avrete un minuto per ragionare fare il tecnicale e poi trovare la risposta quindi non è soltanto esercitarsi applicare il tecnicale ma applicarlo velocemente ok velocemente mi scusi sono entrato un pochino in ritardo sono entrato alla domanda 20 vorrei capire come mai un atto a contenuto generale va motivato no un atto a contenuto generale non va motivato la risposta giusta era che non va motivato esiste un libro del tecnicale no ma esistono due video su youtube se scrivete su google youtube chiarelli tecnicale trovate due video spiegazioni e trovate anzi sì un capitolo del mio libro che sta per uscire cartaceo dedicato al tecnicale ok ho dedicato un capitolo proprio a questa a queste tecniche allora domanda numero 23 23 che mi dice in forza dell'articolo 5 comma 2 del 165 nel rispetto di quale principio sono assunte le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro a nel rispetto del principio di attribuzione b nel rispetto del principio di pari opportunità c nel rispetto del principio di cooperazione istituzionale anche questa non facile non facile perché mi sta chiedendo in base al comma 2 dell'articolo 5 ok sono tutti i principi che esistono ma qual è quello del comma 2 dell'articolo 5 che non dovete ovviamente andare a guardare vediamo le vostre risposte che stanno arrivando intanto abbiamo superato i 200 partecipanti e i 100 like su youtube grazie mille intanto io farei una chiamata ale ci sei in un attimo che ti acclamano ricordatevi se volete seguire alessandro adesso vi dirà dove lo potete trovare eccolo qua buongiorno a tutti eccomi qua lui ho perso un po di voce da ieri però mi si dovrebbe sentire bene buonasera allora ale dove ti trovano intanto il tecnicale abbiamo detto dove l'ho detto su youtube cercate alessandro chiarelli canale da circa 23 2000 e 2100 iscritti dove appunto potete vedere i video principali riguardanti appunto la playlist tecnicale che sono sostanzialmente invece i tuoi canali social sono instagram in primo luogo alessandro trattino basso chiare perché perché i raga stanno su instagram e i vecchi stanno su facebook praticamente la logica è quella però ci sono anche persone di età tra i 30 e i 50 anni per dire che stanno anche su instagram io quante ne ho quindi diciamo che io sono fuori dal mondo cioè io ho superato i 50 anni se appunto hai superato i 50 anni è un po' più versatile instagram rispetto ah speravo pensavo dicessi qualcos'altro allora bene facebook dove sei? poi su facebook sono qua bene poi su alessandro trattino basso chiare trattino basso appunto sei tu tiktok domanda vania? su tiktok sì ci sono ma tiktok non lo uso tanto perché poco è proprio da pischelli sì sì esatto anche te ormai sei anche te sei un po' più vecchio anche te c'è dei social per i quali sei un po' no vabbè la tiktok viene utilizzato anche a 20-30 anni però quella per dire l'età media di tiktok bene invece su facebook mi trovate su alessandro chiarelli semplicemente bene sia pagina che profilo la pagina rappresenta è quella giusta perché rappresenta a me in piedi con una maglia nera dimmi un po' di la parola rododendro rododendro vedi salvatore sottolinea come è la r moscia come lui no io in realtà non ho la r moscia ma una chiesa d'aria ecco comunque la r moscia bene allora non è la stessa cosa ciao ciao a tutti salutone ciao a tutti allora terminiamo il sondaggio clamoroso sondaggio sto vedendo anche le risposte e ovviamente i commenti che arrivano risposta esatta principio di pari opportunità ok principio di attribuzione delle competenze o della riserva di legge di attribuzione delle competenze del 97 della costituzione cooperazione istituzionale non ha a che fare con il pubblico impiego quindi la c non c'entrava niente non riguarda il pubblico impiego quindi erano la a o la b ma principio di pari opportunità fondamentale ancora fondamentale nel pubblico impiego solo il 48% ha risposto esatto quindi anche questa domanda era una domanda molto ma molto selettiva che può fare e ha fatto ovviamente la differenza poi vi chiederò alla fine quante ne avete indovinate andiamo a vedere la domanda numero 24 quanti anni restano in carica i componenti della giunta attenzione non del consiglio A. 5 anni B. 2 anni C. 7 anni Tanto Nadia chiede Alessandro quanti concorsi ha vinto nessuno non sta facendo concorsi sta studiando all'università non è interessato non è interessato al posto fisso allora Angela dice vabbè oggi mi ritiro no assolutamente ve l'ho detto è un quiz medio difficile quindi non dobbiamo allarmarci fa parte del gioco allora quanti anni restano in carica i componenti della giunta comunale ovviamente Max suggerisce insomma dice attenzione salvo l'impasto allora mi serve questa domanda che ricordo è di un quiz vero questo è un quiz dato ad un concorso pubblico settimana scorsa dieci giorni fa insomma abbastanza recente che tecnicamente è sbagliata ok tecnicamente è sbagliata qui ovviamente tutti rispondete correttamente la A 5 anni provate a spiegarmi come mai è sbagliata provate a scrivere nei commenti perché non è corretta cioè se all'orale vi avessi chiesto quanti anni restano in carica componente della giunta comunale e mi aveste risposto 5 anni avrei detto no non ti do 30 ti do un voto più basso perché va spiegata meglio provate a scrivere anche se ovviamente sinteticamente nei quiz è facile perché due anni è sbagliato sette anni ci mancherebbe altro che non è capo dello Stato perché dura quanto dura il sindaco ma assolutamente no quello semmai è il termine massimo ok se la domanda fosse stata quanti anni al massimo restano in carica componenti della giunta comunale sarebbe stata una domanda corretta perché perché non possono durare in carica più del mandato del sindaco poi potrebbero riessere nominati assessori nel mandato successivo magari anche di un altro sindaco quindi un assessore può anche durare più del sindaco quindi può rimanere assessore a lavori pubblici per vent'anni con sindaci diversi ma sono incarichi diversi bene quindi la nomina di assessore intanto avviene dopo le elezioni quindi siccome il sindaco dura in carica cinque anni e nomina gli assessori dopo la sua elezione sarà comunque cinque anni meno x se fossimo dei matematici avremmo detto c'è un intorno che sottrae cinque anni la durata quindi sarà cinque anni meno qualche giorno di sicuro e poi gli assessori cambiano durante la legislatura quindi quella è la durata massima dell'assessore quindi ragionate anche la capacità di vedere questi errori nelle domande aiutano dopodiché non la rendono illegittima il concorso è valido con questa domanda perché l'unica possibile è la A ma se ragiono comprendo che sono a un buon livello di preparazione quindi sempre avere un occhio critico durante la lettura dei quiz domanda numero 25 la domanda 25 è ai sensi del 169 del Tuel nel PEG le spese sono articolate in a missioni programmi titoli macroaggregati capitoli ed eventualmente articoli b titoli tipologie categorie capitoli ed eventualmente in articoli secondo il rispettivo oggetto c esclusivamente in missioni e programmi si legge la domanda si scarta la risposta più sbagliata si torna a leggere la domanda c'è una parola chiave nella domanda una parola chiave e quindi arrivo alla relativa risposta altrimenti uso il tecnicale e la trovo subito tecnicale e la trovo subito due parole sul nuovo libro in uscita sì ve le dico allora il libro in uscita sarà formato da 99 capitoli ognuno dei quali è un suggerimento consiglio racconto di esperienza sulla preparazione ai concorsi da come si prepara l'orale a quanti concorsi conviene iscriversi a come si approccia i quiz al tecnicale a cosa mangiare prima di andare a fare il concorso a i trabocchetti dell'orale a il perché non si deve sentire sui social leggende metropolitane quindi 99 capitoli in ogni paragrafo potete leggere tutti saltarli non c'è una sequenza strettamente logica con indicazioni e anche esempi esempi del tecnicale esempi di approccio quindi non spiego il diritto amministrativo non spiego il diritto costituzionale non spiego gli enti locali questo c'è il book 01 book 05 questo è un libro dove le varie domande che nel corso degli anni mi sono state fatte cerco di dare delle indicazioni un approccio metodologico ai concorsi quindi chi si prepara ai concorsi e vuole poi chi vuole prendersi e venire durante i tour per farci un selfie insieme con il book volentieri intanto vedo che state ancora dando commenti ottimo alla domanda precedente adesso concentratevi intanto Elisabetta dice il capitolo del cosa mangiare il più interessante interessante questa osservazione allora sto vedendo che arrivano tante risposte allora obiettivo lo dico a voi di youtube siamo in 200 partecipanti in contemporanea 114 like al netto di alcuni traditori se gli altri mettono tutti i like si può arrivare a 200 l'obiettivo di questa diretta è arrivare a 200 like quindi scatenate amici parenti conoscenti vediamo se ci si arriva se si arriva a 200 si fa anche un bel quiziz finale ora però ci concentriamo sul 169 la cui risposta esatta è la A la A di Ancona intanto la mamma di Marta e Lara bellissimo nome su instagram mi dice io sono entrato il primo marzo come istruttore amministrativo sono entrato anche grazie a te grazie grazie mamma di Marta e Lara allora vi spiego come si sarebbe risolto il 25 senza conoscere la materia ok prima considerazione la A e la C sono uguali missioni programmi vedete poi la A continua con titoli ma che aggregati capitoli ma la A e la C iniziano lo stesso modo quindi la giusta è la A o la C la C contiene la parola esclusivamente quindi è la A punto se non conosco la materia dico la A e ci avrei azzeccato non solo se conosco un po' la materia e non voglio usare il tecnicale voglio avere un'altra conferma quindi non mi basta il tecnicale vado a leggere nella domanda la parola spese che molti di voi non hanno visto perché si sono concentrati sul peg la parola spese spese uscite ok le uscite sono organizzate in missioni e programmi le entrate in titoli ok le entrate tributarie extra tributarie questi sono i titoli e le tipologie di entrate qui siamo lato spesa quindi lato spesa non ci sono i titoli e le tipologie titicaca ricordatevi l'acronimo titicaca titoli tipologie categorie capitoli articoli ok è entrata mentre missioni programmi titoli ma che aggregati capitoli anche se non me lo ricordavo e lato spesa ma scartavo quelle esclusivamente ecco il perché di questi strumenti questi trucchetti che possono aiutare intanto l'80% di voi aveva usato questi trucchetti o comunque conosceva la risposta buono 26 vediamo un po' quanti like siamo arrivati stiamo arrivando vicinissimi siamo a 153 like intanto stella e viola hanno iniziato ad abbaiare allora titicaca mi mancava sì con un a Laura titicaca a sì con due a finali giustamente titicaca allora andiamo alla numero 26 ah una cosa questi acronimi non li dite all'orale perché me li sono inventati io ilop arv titicaca anzi titicaca mi è stato suggerito da uno studente da una studentessa io l'ho riciclato quindi non è farina del mio sacco io lo sto rivendendo però molto intelligente allora secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della 241 la motivazione deve indicare ah solo i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione solo i ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione i presupposti di fatto e ragioni che hanno determinato la decisione dopodiché rispondete e scrivetemi nei commenti che tipo di cliché è ricordo il cliché è un quiz che al di là del contenuto della domanda ha una struttura identica che ritrovi in tanti altri quiz questo è molto semplice da individuare vediamo allora se lo avete individuato 162 like siamo vicinissimi vicinissimi ai 200 dai forza uno sforzo ulteriore grande Cristina che sollecitava grande Ori che l'ha individuato subito qui tecnicale ma legato ad un'altra regola del tecnicale brava Alice bravo Ilvo Angela dice qui in tre secondi rispondo senza nemmeno leggere la domanda questi sono i cliché i cliché sono una struttura di quiz dove non leggo neanche la domanda vado subito a dare la risposta e i secondi che guadagno li dedico alla prossima domanda si vincono così i concorsi è un po' un rischio perché queste tecniche funzionano nel 95% dei casi c'è anche il 5% non funziona ma cavolo io me la gioco e guadagno un sacco di tempo poi magari torno alla fine se mi avanzano secondi a rivedere per bene ottimo Vania ottimo Rita ottimo Federica in realtà questo non c'ha la Z però va benissimo lo stesso allora 99% di voi quindi vuol dire che mi seguite fedelmente la risposta giusta è la C cioè che è la somma delle precedenti risposte molto spesso i quiz X to Y hanno la parola solo vedete solo nella A solo nella B X più Y nella C o viceversa bene quindi questa veramente era semplicina da indovinare allora intanto andiamo alla 27 con 169 like quindi ci siamo quasi ma se non arriviamo ai 200 non faccio il quiz ricatto la vita è fatta anche di questo io vi ricatto se non c'è 200 like io non faccio il quiz punto 27 ai sensi dell'articolo 197 secondo comma della 267 in quante fasi si articola il controllo di gestione in quante fasi si articola il controllo di gestione in almeno tre fasi in sei fasi in un'unica fase intanto PL community nella community trovi la sezione per i quesiti a cui rispondiamo noi esseri umani ma soprattutto la prima risposta viene data dall'intelligenza artificiale quindi fai copia e incolla della domanda che hai fatto qui in chat e ora non posso rispondere allora Laura dice allora mi collego anche con YouTube così aumentiamo i like per i quiz brava Laura quindi chi è su Instagram e vuole 172 ci stiamo arrivando ci stiamo arrivando dai confido siete abbastanza su Instagram che se aprite anche YouTube e mettete like si fa allora vediamo le vostre risposte questa non è facile ma insomma ci si può arrivare a intuito ci si può arrivare a intuito le fasi del controllo di gestione ci si può arrivare quali potrebbero essere le fasi considerando che diciamo stiamo riferendosi all'articolo 197 non stiamo riferendosi al controllo di gestione nelle aziende private quindi il controllo di gestione nelle aziende private può avere anche più fasi anzi in realtà anzi scrivetemi guarda questa è molto interessante nelle aziende private qual è l'acronimo visto che parliamo di acronimo che identifica il ciclo del controllo di gestione il ciclo del controllo di gestione spesso lo dico nelle dirette e nei quiz brava bravissima Carmela con un ottimo accento inglese plan do check act il ciclo di deming quattro fasi spesso troverete scritte nel controllo di gestione delle aziende private queste quattro fasi ma ma la domanda non è in quante fasi si articola il controllo di gestione che è l'errore tipico di chi legge soltanto un pezzo di domanda ma la domanda è ai sensi del 197 in quante fasi è diversa la risposta perché è almeno tre fasi risposta A la scelta del testo unico è almeno tre fasi poi ne puoi fare 4 5 6 eccetera eccetera quindi in sei fasi è corretto potrebbe esserci sei fasi ma è una delle possibilità mentre la C è da scartare 73% ha risposto domanda numero 28 allora domanda numero 28 mi dice la proroga dell'atto amministrativo intanto mi riallargo un pochino la proroga dell'atto amministrativo deve essere motivata A no mai B no salvo diversa previsione legislativa C sì sempre sì diciamo Alice quella potrebbe essere le tre fasi in realtà è programmazione attuazione e controllo può esserci anche una fase di monitoraggio che corrisponde diciamo un po' alle indicazioni che hai scritto siamo a meno 20 dal quiziz nel frattempo io lo cerco perché io sono ottimista quindi in via cautelativa preparo il quiziz nel caso si raggiungono i 200 like a questa diretta lo faremo come l'altra volta 30 domande in 7 minuti quindi rapidissimo allora vediamo voi preparatevi mettete condividi fate in modo che si possa raggiungere i 200 like poi basta non lo dico più se no divento noioso allora sto guardando di trovarne qualcuna cattiva qualcuna vediamo questa sì sì questo mi piace allora l'ho trovato nel frattempo vediamo la 28 come va allora vedo che su instagram prevalenza della c ma c'è anche qualche b stessa cosa vale su youtube qui forse quel sempre ho sbagliato dice alisce vediamo 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 questa è antitecnicale ilvo sì questa potrebbe essere antitecnicale qui ricordo 95% quindi vuol dire che insomma qualche volta anche tecnicale sbaglia vi do qualche altro secondo per rispondere stanno arrivando le risposte di quelli che ci hanno pensato troppo e nel frattempo cambiano idea infatti le risposte esatte stanno diminuendo allora terminiamo il sondaggio sempre ok la regola è la motivazione dell'atto amministrativo quindi che si tratti di proroga che si tratti di atto iniziale se la motivazione ci deve essere c'è sempre tranne gli atti normativi gli atti al contenuto generale l'abbiamo visto la deroga in una domanda precedente c'era quando non c'è bisogno della motivazione e non c'era la proroga quindi è ovvio che sì sempre anzi nella proroga dell'atto amministrativo la motivazione è rafforzata perché perché io ho deciso che un atto durava fino a una certa data e quindi avevo già preso una decisione motivata adesso devo dire che va avanti insomma devo motivare in modo rafforzato e la sussistenza delle condizioni iniziali e di quelle successive esempio io faccio spesso l'esempio del bar che chiede i tavolini perché è un utile esempio bar chiede di occupare il solo pubblico tramite una concessione per mettere il classico de or per consumare all'aperto me lo chiede per sei mesi gli rilascio la concessione per sei mesi che scade il 30 di giugno arrivato a giugno i clienti sono contenti fa affari mi chiede di prorogarlo fino a settembre io non solo devo dimostrare che fino a settembre ci sono le condizioni di viabilità e traffico ma che sussistono anche le condizioni iniziali quindi non solo ci vuole la motivazione ma una motivazione rafforzata visto che già avevo deciso che a giugno sarebbe stato sufficiente ok quindi ricordatevi questo aspetto il 43% di voi che ha sbagliato non sbaglierà più perché gli rimarrà impresso allora avviamo il sondaggio numero 29 penultima poi vi chiederò quante ne avete indovinate in totale allora 29 mi dice da quale delle seguenti normative vengono disciplinate l'organizzazione e le funzioni dei municipi a dalla legge regionale b dalla legge statale c dallo statuto comunale questa è difficilissima intanto Alice dice mancano 14 like ma che ci facciamo fregare per 14 like aspetta a voi l'area uno scritto domani vai l'area allora vediamo un po' che stanno arrivando le risposte attenzione l'organizzazione e le funzioni dei municipi ricordiamoci cosa sono i municipi questa è una parola chiave perché perché è una parola che nel linguaggio comune significa una cosa il municipio è la sede del sindaco vado in municipio vado in comune non è così nel tuel nel tuel il municipio è un'altra cosa chi di voi ha seguito i corsi lo sa magari lo scriva nei commenti vediamo un po' se allora conoscendo che cosa sono si può arrivare a capire da quali seguenti normativi vengono disciplinate max dice attenzione la parola è disciplinate non attribuite se fosse attribuite direi un'altra cosa se sono disciplinate i municipi riguardano le circoscrizioni no no Ilaria perché perché le circoscrizioni comunali quindi l'articolazione territoriale del comune in zone dove si svolgono delle funzioni che si chiamano circoscrizioni comunali prendono tradizionalmente dal medioevo dei nomi diversi in alcune realtà ad esempio Roma Genova prendono il nome di municipio municipio inteso come circoscrizione comunale non è la dizione del testo unico degli enti locali ok in alcuni comuni per esempio Firenze prende il nome di quartieri ma non è questa dizione i municipi nascono dalla fusione dei comuni due comuni che si fondono insieme mantengono una certa autonomia organizzativa attraverso municipi che non sono più i capoluoghi di comuni bravissima Cesarina non è l'unione la fusione diverso però il concetto diciamo è simile e vediamo allora meno otto meno otto ci siamo quasi allora statuto comunale ottima l'osservazione di Max disciplinate ok non regolamentate perché da quali delle seguenti normative vengono regolamentate l'organizzazione delle funzioni dei municipi la risposta sarebbe stata B la legge statale il testo unico degli enti locali invece disciplinate ovviamente autonomia ed è lo statuto comunale che può prevedere i municipi e può disciplinarlo sarebbero gli ex comuni dopo la fusione brava Francesca sono gli ex comuni dopo la fusione ottima definizione gli ex intanto Favella si è svegliata adesso ed entra adesso in diretta abbiamo la numero 30 e poi se abbiamo altri 7 like riusciamo a fare il quizis mancano 7 like ma ce la facciamo io sono ottimista a 200 like facciamo il quizis pronti attenti via ultima domanda la trentesima ai sensi dell'articolo 169 del tuel nel peg le entrate sono articolate in a missioni programmi titoli macro aggregati capitoli ed eventualmente articoli b esclusivamente in categorie capitoli c in titoli tipologie categorie capitoli eventualmente articoli secondo il rispettivo oggetto questa è la domanda speculare di un'altra che ho fatto quindi se ho capito quell'altra capisco anche questa grazie vedete a fare i quiz e anche sbagliarli si riesce poi a imparare e usarlo subito lo so che non si è svegliata adesso era una battuta bravissima Vania titicaca ricordate il titicaca 197 meno 3 meno 3 ce la facciamo ce la facciamo bravissimo Max per rispondere basta leggere qualche domanda fa ammesso che si sia risposto bene a qualche domanda fa perché l'abbiamo spiegata ecco l'importanza vi dico quando fate i quiz sulle banche dati anche fatte bene poi quelle gratuite a cavallo donato non si guarda mai in bocca qual è il rischio è che se io mi porto dietro un errore poi lo faccio e lo ripeto continuamente quindi meno quiz ma ragionati prima l'ho sbagliata ora no ottimo Ilaria quindi vedete allora andiamo a vedere la risposta che ovviamente è titicaca la C adesso vi chiedo di scrivermi nel sondaggio quante quante indovinate su 15 solo con riferimento a quelle di oggi poi vi lancio il quiz perché siamo a 200 eh ragazzi ottimo sforzo poco educativo eh nel senso che questa cosa che ho fatto ci dimostra che ricattati si raggiungono i risultati che non è una bella lezione di vita mi scuso non lo farò più allora benissimo Eleonora siamo pronti allora rispondete al sondaggio nel frattempo vi invito a venire sul quiziz chi è su Instagram non lo potrà seguire quindi deve fare il salto su YouTube questo è il link per chi entra da dispositivo fisso da computer da dispositivo mobile 85 07 11 quindi anche chi è su Instagram lo può tranquillamente fare intanto su Instagram mi scrivono 13 13 12 ottimo Vani ha solo due sbagliate benissimo 8 5 0 7 11 su 11 indovinate 7 diciamo non benissimo però insomma si può crescere sondaggio su 30 domande lo faccio dopo ora intanto facciamo questo su 15 poi vi faccio il sondaggio sulle 30 domande ma c'è una lezione su questi acronimi no via via li dico c'è un mio dei miei video che si chiamano latinorum sull'uso del latino nel diritto farò anche poi più avanti diciamo un qualcosa legato agli acronimi però diciamo per ora sono partito dal latinorum allora vediamo vediamo un po' come sta andando questo sondaggio Carmelo 14 su 15 ottimo allora il sondaggio su 15 domande ci dà questo risultato abbiamo il 7% ha risposto a 15 il 16% ha risposto a 14 totale 23% questi passano la preselettiva con 13 non si passa la preselettiva con 12 o meno ovviamente no in 30% ha risposto al 13 però chi ha 13 sa che ne bastava una per essere dentro così come ne bastava una per essere nel gruppone quindi diciamo occorre orientarci bene adesso vi faccio la domanda quanti chi c'era anche ieri quante indovinate su 30 allora andate a fare la somma vi chiedo ne avete indovinate 29 o 30 ne avete indovinate 27 o 28 26 25 24 o meno di 24 così vediamo il totale anche su instagram se volete nel frattempo siamo arrivati a quanti partecipanti 109 tantissimi partecipanti e quindi mettiamo il conto alla rovescia fra un minuto e mezzo partiamo sul quiziz ringrazio instagram rimanete perché adesso girerò la telecamera e vi mostrerò come va sul sul display quindi potete anche tranquillamente rimanere come si entra sul quiziz c'è un link che adesso vi inserisco altrimenti dovete scaricare la app gratuita quiziz che trovate su play store o apple store e inserire il codice 850711 per partecipare alla diretta allora stanno rispondendo al sondaggio chi ha fatto tutte 30 le domande che corrispondono ad un concorso reale ok ad un concorso reale e abbiamo l'8% circa che ha risposto a 29 o 30 ovviamente dentro il 28% che ha risposto a 27 28 ovviamente dentro non si è dentro sotto il 27 diciamo non si è certi poi dipende da vari fattori ma tendenzialmente non si è certi se se ne è fatte 24 25 26 ovviamente meno di 24 vedete l'importanza di capire cosa fanno gli altri non cosa faccio io ok un 26 su 30 può sembrare un ottimo risultato e tendenzialmente lo è è una buona preparazione ma non si è dentro in questo caso quindi ricordiamoci questo concetto bene stiamo partendo togliamo l'audio insopportabile ed ecco qua Alessandro svetta in testa due su due indovinate allora 7 minuti quindi alle 10 e 23 togliamo la connessione 30 domande ringrazio ovviamente tutti quelli su instagram che stanno seguendo e che adesso seguono la diretta e poi seguiranno le domande commentate ringrazio tutti quelli su youtube quelli che hanno consentito anche di partire con questo quizis con tutti i like che sono stati dati allora intanto presento a quelli di instagram quelli di youtube vedete sono qui vi faccio fare conoscenza ecco qua vi presento multisocial allora alessandro ottimamente sta sbaragliando alessandro 06 asterisco non è alessandro chiarelli ma max addirittura era passato a vantaggio per un attimo puma ha ripreso la prima posizione ma ha un errore però sta andando velocissimo suggerimenti per un orale di polizia locale scrivere a formazione chiocciolaomiavis.com perché esistono proprio dei percorsi per la preparazione all'orale fatta da video commenti di prove orali simulate ci sono vari corsi sulla polizia locale e lezioni individuali quando si arriva all'orale io suggerisco di valutare le lezioni individuali quelle in diretta dove insieme a docenti esperti me per alcuni aspetti colleghi della polizia locale per altri si può simulare la prova orale costano però può essere l'investimento finale quando si è all'orale si avvicina al traguardo e può valere la pena questo è bene che sappiate tutte le varie opzioni e poi potete valutare benissimo stiamo andando verso la conclusione puma conserva la prima posizione ma alessandro non ha fatto nessun errore sta andando un pochino più lento ma vuole arrivare a fare l'unplan 30 su 30 vediamo la percentuale 62% è un quiz medio non facilissimo è facilissimo quando si supera il 70% di domande esatte è difficile quando siamo sotto il 50% 60 è medio quindi possibile indovinarle tutte non è impossibile diciamo è difficile almeno uno o due errori anche quelli bravi bravi li fanno però però si può fare max ottimo 10 su 10 11 su 11 vedete è una bellissima sfida poi guarderemo le risposte più errate intanto Daniela è inciampata in questo momento su una domanda e sta per essere raggiunta come vedete anche il tempo si possono si può rispondere bene anche in pochissimi secondi a esercitandosi a fare tecnicale poi magari chiederemo ad Alessandro Max Puma non glielo chiediamo nemmeno perché ormai è rinomato come stanno approcciandosi anche altri vedo che sono in gradatoria Vania ottima sta salendo in gradatoria è un gioco quindi prendetelo sempre comunque come un'esercitazione che vuole simulare la prova dell'orale allora mancano 10 9 domande per Puma mancano 4 minuti alla conclusione quindi accelerate nelle risposte accelerate assolutamente anzi sono 30 non sono 20 sono 30 domande ok 30 domande in 7 minuti veramente è tosta però bisogna provare anche questo quindi prendetela come un gioco ma anche come una simulazione di quello che può capitarvi intanto Alessandro e Max non mollano stanno rispondendo bene a tutte quante complimenti complimenti a loro scudo e sciopero mi bloccano mi dicono di rientrare non so come funziona se cliccare sulla x so che esce questa cosa scudo e sciopero però lato utente non lo conosco mi hanno detto però si può superare chi ha dei consigli da dare su cosa cliccare lo scriva in modo tale che l'ibè si liberi da questo blocco io ringrazio Quiziz che ci mette a disposizione questo applicativo gratuito ovviamente ci sarà della pubblicità scudo e sciopero vedete strike and shield che è l'acronimo di Quiziz amen allora vediamo un po' come sta andando Alessandro ha commesso un paio di errori Max ha fatto il suo primo errore Luca sta rinvenendo dalle retrovie citazione per chi ha la mia età ricorderà esistono sfide dove vengono evidenziate una carrellata di numeri e acronimi e relativi collegamenti per rafforzare la memoria vista vista la mole di cose da ricordare no ma mi hai dato un'idea Francesca ti chiedo questo se mi mandi e lo dico anche agli altri chiunque abbia un'idea di realizzare qualche lezione alternativa diciamo che non ho ancora fatto questa mi sembra molto interessante cioè una colonna con degli acronimi una colonna con dei collegamenti da unire con le frecce per visualizzare bene accetto la sfida però mi dovete mandare un'email altrimenti me lo dimentico quindi simone.chiarelli chiacciagmail.com scrivetemi con le vostre idee di cosa fare anche sugli argomenti e quant'altro nel frattempo Puma è arrivato in fondo con i suoi 29.000 punti un ottimo risultato eccellente acronimi anche inventati scrivete tutto nell'email che si organizza bene allora iniziamo a fare il conto a rovescia perché mancano due minuti due minuti saremo inflessibili per carrettezza delle regole del gioco quindi Alessandro ti invito a fare velocemente a abbandonare questo ritmo non forsennato che invece richiedeva questa prova allora vediamo vediamo un po' come come va allora bene 20 19 18 17 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1 0 terminiamo la nostra diretta così ci guardiamo un po' di domande allora ecco qua che stanno arrivando i risultati con i nostri vincitori morali Alessandro Antoma e Puma allora vediamo le domande come vedete ve l'ho detto già l'altra volta notate a di là della prima che probabilmente insomma l'emozione vedete come le più sbagliate siano verso la fine per calo di concentrazione diciamo stanchezza quindi si vince soprattutto sulle domande finali perché chi indovinava queste ovviamente era avanti a di là del contenuto perché sono messi a caso quindi non c'è una scelta ma nella maggior parte dei casi funziona così le più indovinate all'inizio a metà si iniziano a sbagliare in fondo sbagliate vediamo allora le domande questa 31% la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge 267 il prefetto può promuovere la decadenza dalla carica di sindaco sì certamente l'abbiamo trovata anche nel quesito di oggi questo abbastanza bene questa abbastanza bene questa media vediamo un po' la violazione da parte dipendenti delle misure di prevenzione della corruzione illecito disciplinare non necessariamente penale anzi era un trabocchetto reato di corruzione illecito penale due specchietti per le allodole ai sensi del DPR 432 per l'esercizio dei doveri o diritti dello stato di legittimità affiliazione difficilissima questa questa era abbastanza tosta però vedo che avete eliminato il solo in base al GDPR l'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento un buon 62% qui indovinata tutti qui molto bene nella gestione della spesa degli enti locali in quale fase è determinato il soggetto creditore nell'impegno l'impegno individua il creditore l'accertamento chi ha risposto all'accertamento non ha letto bene spesa ok accertamento entrata ARV accertamento entrata spesa non c'è l'accertamento c'è l'impegno prof c'è una lezione sul nuovo codice agli appalti 36 2023 c'è un intero corso cod 117 una sola lezione no ma se andate su internet sul mio canale youtube trovate dei convegni seminari che ho fatto di 3 o 4 ore dove spiego il nuovo codice non è l'equivalente del corso articolo per articolo del codice però è gratis e può essere utile allora andiamo a vedere anche avanti queste sono abbastanza bene andiamo a vedere verso la fine dove c'erano i maggiori errori allora in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni degli strumenti urbanistici ogni determinazione in ordine della domanda è sospesa è sospesa gettone dei consiglieri vediamo un po' 36 29 34 35 ai sensi dell'articolo 32 cosa si intende per variazioni non essenziali ovviamente modifiche sostanziali no demolizione fedele di costruzione insomma proprio non essenziale direi di no mutamento delle caratteristiche direi di no quindi rimaneva le variazioni sui volumi tecnici anche se non si conosce la materia tecnica ci si poteva arrivare in base all'articolo 94 la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della camera qui soprattutto molti non sono arrivati alle ultime risposte le ho scorse velocemente allora bene che dirvi io ringrazio tutti quanti ringrazio partiamo da chi è su instagram che saluto ringrazio se volete trovate anche su youtube materiale a voi alla prossima ringrazio quelli che sono ovviamente su youtube e che seguono sia che siano abbonati sia che siano non abbonati sia che abbiano messo like sia che non abbiano messo like e noi ci vediamo alla prossima occasione non escludo anche stasera a presto arrivederci ciao ciao a presto a presto a presto